Agenzie per la casa Rimborso del debito residuo regionale Mozione contro il nucleare Diritto allo studio universitario Il Consiglio regionale, nella seduta del 23 settembre, ha approvato la legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa, con tre documenti collegati e, in materia finanziaria, l'assestamento di bilancio del Consiglio regionale e il provvedimento che consente alla Giunta di rinegoziare il debito. L'Assemblea ha concluso la seduta con l'approvazione di una mozione per la denuclearizzazione del Piemonte. Il Consiglio regionale, a maggioranza, nella seduta del 23 settembre, ha dato il via libera alla legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa. Collegati al provvedimento sono stati approvati tre documenti di indirizzo che affrontano il tema dell'emergenza abitativa, impegnano la Giunta a costituire un fondo salvasfratti, a censire gli alloggi delle ATC e a varare nuove norme che prevedano anche misure di social housing e autorecupero delle abitazioni. Questa prima riforma della legge sull'edilizia popolare riorganizza apicalmente le ATC, le agenzie territoriali, senza allontanare però la struttura dei territori, cioè gli sportelli sui territori resteranno diffusi sul territorio regionale. Verrà recuperato circa un milione di euro da destinare al recupero e alla messa norma di nuovi alloggi da distribuire ed è stata introdotta anche una norma di salvaguardia rispetto all'occupazione per il riordino anche delle società partecipate. C'è un impegno anche per un fondo salvasfratti che dovrebbe già arrivare nell'assestamento di bilancio. La legge approvata oggi riduce il numero delle ATC piemontesi da 7 a 3, questo è un aspetto positivo però un aspetto negativo. non dà una sola casa in più ai piemontesi. Visto che noi riteniamo che il problema casa sia oggi una priorità per il Piemonte, abbiamo presentato molte proposte, la garanzia sui mutui, la riduzione del costo dei mutui stessi, contributi per l'autorecupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni che purtroppo però sono stati respinte. L'Assemblea ha approvato la legge che autorizza la Giunta a ristrutturare il debito dei derivati emessi nel 2006 e a trattare con cassa depositi e prestiti l'allungamento della restituzione del debito residuo del bilancio regionale per rendere meno pesante il complesso delle rate annuali da rimborsare. Via libera anche all'assestamento di bilancio del Consiglio che prende atto di un forte avanzo di esercizio pari a oltre 17 milioni di euro. Il Consiglio regionale chiede al Governo di individuare in tempi brevi un sito di stoccaggio unico nazionale per smaltire le scorie radioattive. Lo fa approvando a maggioranza nella seduta del 23 settembre una mozione, primo firmatario Marco Grimaldi-Sell, sulla denuclearizzazione del Piemonte dove sono presenti tre siti nucleari a Bosco Marengo, Saluggia e Trino Vercellese. Respinto un documento presentato dal Movimento 5 Stelle che chiedeva informazioni capillari verso la cittadinanza sul tema. La Commissione Cultura, riunita in sede legislativa, ha approvato il 24 settembre all'unanimità dei votanti e con emendamenti la legge di modifica sul diritto allo studio universitario. Il provvedimento prevede la reintroduzione della rappresentanza degli Atenei Piemontesi e degli studenti all'interno del Consiglio di Amministrazione delle Disu, ente per il diritto allo studio universitario.